Come è andata e cosa hai scelto? Ho scelto il saggio breve o articolo sulla crisi e credo sia andata bene. Tutto sommato erano tracce molto fattibili. Ho semplicemente valutato le fonti e analizzato attentamente mettendoci un po' del mio, di quello che pensavo. Come è andata la notte e la mattina? Tutto sommato tranquillo, un po' d'agitazione giusto stamattina alle 8, però tutto sommato pensavo peggio. Tema storico sulla questione ebraica, la soluzione finale degli ebrei. Penso sia andata bene. Perché l'hai scelto per l'argomento o perché ti piace comunque la storia? Perché mi piace la storia e anche per l'argomento che pensavo di saperlo bene comunque. L'emozione dalla notte alla mattina? Guarda, io veramente l'emozione neanche tanto perché alla fine secondo me è una specie di compito come un altro. Certamente è quello che per me incide più per tutti i cinque anni, però secondo me prenderla con troppa angoscia o così non aiuta comunque la concentrazione. Ho scelto il tema socio-economico, l'ho trovato piuttosto interessante anche se poi alla fine le cose da dire non erano molte. Eri emozionato? Come ti sentivi? Oddio, sinceramente non ho ancora emozionato perché ho più paura della seconda e della terza prova, però ha fatto un certo effetto entrare in palestra con tutti quei banchini schierati. Eri emozionato? Come ti sentivi?